La scienza e la tecnologia al servizio dello sport con nuovi macchinari per predisporre allenamenti su misura. Atleti si nasce ma con la nuova tecnologia a supporto dei professionisti Atleti si diventa un nuovo macchinario super esclusivo per predisporre allenamenti su misura ai tennisti fiorentini. Stiamo approfittando di questi giorni particolari per studiare grazie allo staff nostro dei nuovi sistemi di allenamento, cercare di tenersi sempre aggiornati e cercare di dare il massimo agli atleti. Non solo tecnologia ma un percorso completo rivolto a chiunque si voglia avvicinare ad uno stile di vita sano e sportivo. Chiunque fa un percorso con noi viene testato inizialmente sia da un punto di vista posturale, poi fanno un test di bioimpendenziometria, vale a dire la valutazione della massa corporea e dei liquidi. Che sono tutti parametri che poi durante il periodo di allenamento vengono rivalutati per capire che cosa sta succedendo, se l'allenamento produce un lavoro positivo o se c'è l'opportunità di cambiare qualcosa o di proseguire sulla stessa strada. Questo è il metabolimetro della Cosmed e serve per misurare il V2 Max, misura l'ossigeno e l'adride carbonica in modo diretto. Adesso con il nostro tennista facciamo un test massimale, incrementale e l'obiettivo sarà di misurare il massimo consumo di ossigeno, riuscire a rilevare la frequenza cardiaca massima e capire anche la soglia anerobica, che ci permetterà poi di programmare gli allenamenti ad hoc in maniera scientifica. Adesso stiamo vestendo l'atleta, abbiamo fatto indossare il metabolimetro e adesso si farà il test massimale. Atleta come ti senti? Un po' peso, non so, però tutto bene. L'azzurrino vuol dire che noi stiamo facendo il riscaldamento e il verde invece che lui sta facendo il test. Adesso il nostro atleta è entrato in soglia e quindi vedremo quanto sarà in grado di resistere a questo stress in una situazione che è lattacida, quindi è molto stressante.